Cioè, sempre meglio del pisello, il pisello è la cosa più brutta da vedere in natura, sembra tipo un lombrico post ictus, lo vedi? Tipo, e anche quando vai in erezione, secondo me non è che è migliore, cioè, non è che fa schifo, è tipo sempre un lombrico post ictus, ma per me a seguito di un moto d'orgoglio, lo vedi che... Sto curvo perché il mio pende a sinistra. Grazie.